no 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 mi chiamo mi chiamo mi chiamo mi chiamo a chi? mi chiamo si è già chiamato due volte mi chiamo adesso mi ammazza scusa te levi si infatti in mezzo proprio mi chiamo mi chiamo Antonino mi piace Antonino? Antonino e Luca? io ci sono mica che Antonino quello che fa? ho chiamato due volte poi mi ammazza la terza dai due che sto qua eh ho detto guarda tre e mezzo e inizia inizia ai cinque si infatti te le metti e mai 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 chi è questa? ma che raggiunga? dai davanti ai cinque dovevano sei cinque e mezzo guarda si infatti guarda Luca guarda sei una cosa cosa mi sono perso Antonino? cosa per io? cosa per sapere? oddio non c'è più ecco la stalla con Finita la partita, meno male